Lunedì 26 giugno, San Vigilio, è il 177esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 188 al termine. Il sole sorge alle 5 e 24 e tramonta alle 21 e 3 minuti. La luna si leva alle 8 e 9 minuti e tramonta alle 22 e 54. Viene impiccato Rocco Pion di Borgogna di anni 20. Nella notte del 21 maggio precedente, con alcuni complici, era penetrato nella casa del colonnello Don Diego di Villa Lobes a Villa Franca, depredando e malmenando la famiglia del colonnello. Mentre i complici non saranno più arrestati, dopo sei anni il Pion cadrà nelle mani della giustizia. Le previsioni per domani. Tempo variabile con addensamenti nuvolosi su zone montane e pianura centro-settentrionale, irregolarmente nuvoloso con schiarite altrove. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, specie sulle zone centro-settentrionali dal pomeriggio. Temperature massime, generalmente stazionarie, minime in aumento. Grazie. Grazie.